Allora, ho ordinato con quest'app, oddio aspettate, con quest'app qua, Too Good To Go, ho ordinato, eccolo qua, Too Good To Go, due buoni alpenni di Biella. Sono troppo curiosa di vedere che cosa c'è dentro, vado a richierarlo, ci vediamo dopo. Sono curiosissima di vedere cosa c'è dentro, sono un po' in imbarazzo in verità, però vediamo, dopo vi faccio vedere, faccio il video per vedere, vi faccio vedere tutto cosa c'è dentro. Allora, sono qua con le mie bag, eccole qua, e Davide e Andrea sono curiosissimi di vedere cosa c'è all'interno, ma io forse spiero prima, no dai, aspettiamo di arrivare a casa. Allora, adesso torno a casa dal lavoro e apro, però ho intravisto già cosa c'è un po' all'interno e sono delle insalate, sono praticamente quasi tutti i prodotti del banco frigo, perché il principio di quest'app è quella dell'evitare lo spreco, quindi o i prodotti comunque vengono messi a un prezzo scontato all'interno del negozio, oppure vengono venduti tramite quest'app che facilita un po' lo smercio di questi alimenti che sono in prossima scadenza, scadranno oggi, scadranno domani, ma sono ovviamente conservati perfettamente. Quindi delle mie amiche l'avevano già fatto con delle panetterie, questo discorso, io ho provato col penne perché ho detto bene o male, comunque la spesa penne o lì della faccio spesso, e dopo vi faccio vedere tutti i prodotti, però secondo me è una cosa davvero valida, soprattutto per evitare gli sprechi e anche per risparmiare. Ecco qui cosa c'è all'interno, allora, due pacchi di insalatina, ok? Allora questa è una bag, ok? Quindi due, un terzo, poi riso, fagiolini e pollo mi sembra o pesce. Cos'è questo? Non riesco a capire se c'è il... no, penso che sia pollo, mi sembra da vedere così. Poi c'è qui degli spaghetti saltati, prodotto vegetariano, e questa è una. Poi nell'altra abbiamo, allora, Davide, ciao, vuoi salutare? Eh, sto guardando, ciao. Sì, già se ne è già accaparrati Davide. Allora, sono i pretel e gli spinaci, e sono, io l'avevo già assaggiato una volta, sono davvero buoni, buoni, buoni. Poi ci sono due insalatine, poi un altro spaghettini saltati, quindi stasera faranno uno a testa. E poi, qui facciamo contento il papà, abbiamo due burrate, due burratine. Quindi direi ottimo, questa è la seconda bag. Questa è la seconda bag. Stasera fai quelli, e gli spaghettini. Ecco, direi che è decisamente conveniente. L'unica cosa, che però questo non dipende dall'app, non dipende dal principio che è quello, comunque, sia di evitare gli sprechi, perché ovviamente sono tutti prodotti che scadranno oggi o al massimo domani. Adesso lo scarico anch'io. Lo scarico anche tu? No, volevo dire che va un po' contro il principio, il mio principio quello di scatolare tutto, però, purtroppo, io cerco di prendere l'insalata da lavare, è sul momento. Però, sappiamo, ormai il supermercato è tutto, tutto chiuso, impacchettato in questo modo, per una questione igienica. Però, devo dire che come app, se, comunque, ecco, ma chi sta meglio di lei? Chi? Chi è che sta meglio di lei? Per te non c'è niente? Non si chiama l'app? Non lo fanno questa app qua anche per i cani, vero? No, non credo. Si chiama Too Good To Go. Ok? Adesso ve la faccio vedere. Anzi, vi faccio qua i passaggi. Adesso che Davide la scarica, aspetta Davide, così lo facciamo vedere in video. Ecco Davide che ha trovato l'app e installatela, vai, installa. Ci ho avuto installa. Adesso aspettiamo un attimo. Ora che l'abbiamo installata, l'apriamo. Se volete fate l'account Google, adesso io ce l'ho con il mio account Google. Quindi date le autorizzazioni, le concessioni e fate il login con Google o con quello che volete. Ok, ecco adesso qua. Poi vi chiederà l'età. Vabbè adesso fai il login. Adesso io l'ho con Google. Come lo farete poi voi. Facciamo vedere passo passo come installare l'app. Poi rimani aggiornato. Ah qua ti dice no, è perché dovevi dargli l'ok rispetto alla tua posizione. Sì, adesso che siamo entrati come vedete potete scegliere delle... Sì, l'unica cosa abbiamo sbagliato perché vedi che siamo Nettuno in questo momento vicino a Roma. Quindi qua potete scegliere dove siete. Quindi vi spostate sulla mappa. Noi ci sposteremo a Biella. Vabbè, facciamolo non a caso, ma facciamo... Abbiamo trovato Castiglione, proviamo. Ok, diamolo ok? Sì, no. Ok. Adesso ci troverà tutti i negozi che danno la surprise bag. Ok, con un prezzo di 3,99. Si clicca sopra e si acquista. Adesso penso che non sia più disponibile. Ah no, 5 rimanenti. Vedete, per esempio, questo esercente ne ha 5 rimanenti. Ok, si vede anche un giudizio. Si compra e si va a ritirare, dice, ogni esercente dà il suo orario di ritiro. Per esempio, il Penny oggi era dalle 16 alle 20, quindi io lo potevo ritirare dopo il lavoro. Adesso qua ne abbiamo messo una a caso, ma insomma potrebbe essere qualsiasi tipo di esercente. Se voi magari siete anche... potete anche cambiarlo ogni volta, tipo la posizione. Quindi ricordiamoci l'app contro gli sprechi. Voi volete, siete, non lo so, a... Certo, sei in vacanza, per dire, cambi la location e cerchi qualcosa là. Puoi sempre cambiarlo. Si, ricordiamoci quindi l'app Too Good To Go. Ciao. Ciao.